La scuola deve riaprire assolutamente. Tutta la letteratura internazionale ha dimostrato senza equivoci che i danni di salute del non andare a scuola sono peggiori di qualunque altra cosa che possa succedere a scuola. Lo ha detto Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche e Mario Negri, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, in un'intervista televisiva. Certamente però, ha sottolineato l'esperto, bisogna stare attenti con i trasporti. La possibilità di ammalarsi a scuola è piccola, si deve però vaccinare gli insegnanti perché loro hanno la possibilità di essere contagiati dai ragazzi, ha evidenziato Remuzzi.